Mister, si viene dalla vittoria di Parma, condizioni generali della squadra? Beh, condizioni generali della squadra, recuperiamo Giringheri infortunato, perdiamo Agazzi e Donnarumma, e più abbiamo un giocatore per noi molto importante che va monitorato, bisogna capire se rischiarlo dal primo minuto oppure utilizzarlo nell'ultima mezz'ora in caso di necessità. Che cosa si aspetta dalla prossima partita? Beh, mi aspetto che la squadra non sia pagata dalla grande vittoria di Parma, come ho detto ai ragazzi, ci sono due modi per reagire a una grande impresa, quella di acquisire consapevolezza e ripeterle un'altra, oppure quella di non riuscire a recuperare e di ricaricarsi e di arrivare lì magari ancora un po' con la testa alla partita di Parma. Al di là della classifica, che tipo di avversario ci aspetta? Che spalle ci aspetta? La spalla è una delle squadre che era secondo me già forti all'inizio e col mercato di gennaio si è notevolmente rinforzata. La posizione classifica è una posizione che secondo me non rispecchia il reale valore della SPAL, però si sa che la Serie B è questa e non sempre tutte le ciambelle escono col buco, come si dice dalle mie parti. Nonostante sia un giorno particolare ed un orario particolare, ci sarà un buon numero di tifosi al seguito della Ternana anche da parte? Sì, l'avevo già detto alla fine della partita con il Parma, sapevo già della prevendita anche di Ferrara e avevo già elogiato perché un conto è di sabato a Ferrara. Martedì a un orario lavorativo, una trasferta così lontana mi pare che erano a 150 biglietti, non so poi se nel frattempo sono cresciuti, però il vero esodo considerando il giorno di lavoro penso sia quello di domani e noi dovremmo fare di tutto come cerchiamo di fare in ogni partita, di provare a vincere per dedicarla ai nostri tifosi. Grazie.